ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video dove vi farò vedere come avete capito dal titolo tre trucchetti per quando noi praticamente usiamo di gel costruttori molto pesanti nel senso che comunque non bruciano tantissimo tipo cremi builder natural builder milky builder insomma tutti questi costruttori un po che ci danno un po fastidio noi diciamo così quando noi andiamo a mettere la mano dentro la lampada quando facciamo ovviamente la struttura la bombatura e ci brucia tantissimo allora adesso vi dico questi tre metodi semplicissimi e cominciamo subito allora il primo metodo è quello di mettere la mano praticamente così questa qui vabbè al sensore questa mettere la mano praticamente così la faccio vedere meglio scusate ma ho la sedia che scricchiola la mano praticamente così ok così comunque i raggi però c'è senza questo senza mettere la funzione soft la mettete praticamente così così i raggi comunque ovvi penetrano lo stesso nella struttura insomma nell'unghia che comunque vedete vicino vedete così insomma e e così catalizza e aspettate ovviamente quelle sensazioni di bruciore che che va via e poi l'anserite tutta questo è il primo metodo il secondo metodo è mettere la mano dentro così tre secondi poi farla uscire aspettare altri tre secondi poi rimetterla dentro tre secondi finché praticamente il bruciore non si attenua quando il bruciore il bruciore va via mettete tutta dentro la mano la mettete tutta dentro la lampada praticamente state stati tre secondi poi uscite fuori aspettate tre secondi e poi la rimette detto per i tre secondi questo affinché non sentite praticamente più il bruciore più il bruciore poi la mano la mettete tutta dentro poi un altro metodo che il terzo ed ultimo metodo praticamente quando voi fate la la bombatura cosa fate questo qui me l'avevano detto al corso praticamente voi appena fate la bombatura dicono di mettere ovviamente se avete un costruttore ovviamente molto denso di alta densità che non coli perché se la mettete così la mano colla tutto il prodotto la mettete praticamente al contrario invece di metterla per così la girate e la mettete così praticamente e di e dicono che così non non bruci più di tanto praticamente quindi ripeto il primo metodo è quello di stare all'imboccatura della lampada stare un po così almeno così raggio vi penetro comunque nell'unghia e poi è finito il bruciore la mettete direttamente dentro il secondo metodo vi ripeto anche questo stare tre secondi così la mano dentro la lampada poi tirati fuori altri tre secondi poi rimettete dentro altri tre secondi e via dicendo finché sempre il bruciore non praticamente non lo sentite più poi alla fine mettete dentro la mano e il terzo metodo è di mettere la mano al contrario questi sono i tre metodi praticamente per non far sentire il calore così quello tanto fortissimo dei gel insomma costruttori quelli che bruciano questo video è durato pochissimo l'ho voluto fare perché comunque ci sono tante persone anche le miei clienti comunque che si lamentano perché sentono bruciore eccetera eccetera allora in questo metodo quale i miei clienti stanno a posto e non più di tanto non lo sentono dopo ovviamente mettete la funzione quella soft per chi ha la lampada futura e sta a posto insomma ecco non ci fate caso qui la polverina ma questo qui anche se lo sgrullo rimane così praticamente adesso devo fare un'altra ragazza poi comunque non ci fate caso non è che sporco perché comunque vedete c'è tutto pulito solo qui che mi è macchiato del polvere che si è intasata qui e quindi lo dovrei mettere a lavare la lampada pure dopo io do una botta non ci fate caso scusatemi e niente comunque spero che questo metodo fatemelo sapere se lo provate questo metodo fatemi sapere se sentite più calore lampada o meno ovviamente gli ultimi due metodi mettete la modalità soft mi raccomando niente spero che questo video vi sia stato utile se è stato così mettete il palice in su sotto il video commentatemi fatemi sapere poi se questa cosa aveva funzionato o meno se sentite cioè non è che non sentite proprio il bruciore però almeno ve la lieva lo sentite molto di meno di quel bruciore fortissimo quindi commentatemi sotto e fatemi sapere anche se questi tre metodi poi vi ha funzionato niente vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao